Calcio Mercato Napoli, nel Mirino, un centrocampista dalla Serie A. Svelate le cifre per l'accordo. Il Napoli è a lavoro sul mercato per individuare i profili giusti da integrare in rosa, per continuare sulla strada della vittoria. Un nome per il centrocampo viene dalla Serie A. Si tratta di Maxime Lopez, centrocampista francese del Sassuolo, classe 97. La sua esperienza in Serie A lo ha fatto balzare in cima alla lista dei possibili nuovi nomi per la squadra partenopea. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, lo stesso Maxime Lopez è motivato a scegliere il Napoli. Il calciatore infatti vorrebbe lasciare il Sassuolo per provare un'esperienza di primo livello e si sarebbe offerto al club azzurro. Il Napoli di contro sta cercando un nuovo sostituto di Lobotka, con Demme, che va verso l'accordo con l'ERTA Berlino e il ritorno in Germania. Maxime Lopez è ben conosciuto da Rudy Garcia, che lo ha allenato al Marsiglia. Il Sassuolo chiede una cifra che oscilla tra i 10 e i 15 milioni e i prossimi giorni possono essere decisivi per chiudere l'accordo. Vi piacerebbe in casa Napoli?